Attenzione, attenzione, perché stiamo per finire il programma troppo forte. Io prima di chiudere il programma totalmente, prima di chiudere proprio, essere banditi dalla radio, volevo mettere una canzone, una canzone che nessuno capisce, tutti criticano, tutti dicono che è brutta, oh, a me, me piace, a me me piace. Questa sera andranno a curiosare i video su YouTube, alla voce RB Seriosound li potete trovare. I video. Come, come? E infatti, io devo mettere questa canzoncina qua e poi salutiamo all'ultimo, al ritmo di musica, cantando. Perfetto. Perfetto, quindi i saluti a dopo. Ascolta, ascolta. Perfetto.